Ragazzi, benvenuti in questa nuova live Oggi per la cronaca del Napoli Evo Vabbè, video veloce Dai, intanto Vabbè, voglio vedere gli spettatori prima che comincia la partita E vabbè, intanto Non so se mi sentite Però, vabbè Scrivetemi nei commenti se mi sentite Antispettatori Zero spettatori ancora Ok ragazzi In questa live Vabbè, quando comincia sta Napoli qua Ah, ecco, cominciata regà Cominciata la partita E vabbè, non so se mi sentite comunque Antispettatori Sì, uno spettatore Ok, tre spettatori Ok ragazzi, cominciamo con Napoli Intanto che cominciamo con le informazioni Allora, intanto Vado a vedere su internet Perché la partita è già Quattro La raga La vado a vedere un attimo su internet Non è successo ancora niente Ok raga Ah, l'arbitro vabbè Di bello Ecco le informazioni 5 spettatori, ok 4 spettatori Il Napoli di Sarri Aspettiamo che si carica Il Napoli di Sarri Va con Reina Kisari Kirkesh Kulibaly Gulam Amsic Giorginio Lopez E Tra virgolette Trio Trio di attacco Insigne Higuain Kayekon E Subito Attenzione ragazzi Go Go del Chievo Go del Chievo Attenzione raga Non ho visto Stavo sul computer Ecco il gol del 1-0 del Chievo Raga 1-0 subito del Chievo Sbam 1-0 del Chievo Visto subito Raga Scusate Stavo Stavo sul computer Mi sono girato Gol di Nicola Rigoni Insacca le spalle del portiere Insacca le spalle di Reina 1-0 del Chievo Raga Scusate Raga Stavo Stavo un attimo sul computer Non l'ho visto Ma scusate Va bene Subito che comincia Al 1-40 All'1.50 secondi Segna subito Raga Io stavo sul computer Per vedere le formazioni Per voi Non lo sapevo Raga Raga Non lo sapevo Scusate Gol subito Raga Gol di Rigoni Proprio Rigoni Centrocampo Vabbè Vi dico intanto La formazione Nel 4-3-3 Anche quello del Napoli Nel 4-3-3 Anche questo del Chievo Nel 4-3-3 Con Bisari Frey Cesar Danielli Cacciatore Castro Radovano I Cirigoni Birsa Pelli Rigoni Birsa Pellissier E un poco Un poco Raga Comincia bene il Chievo Intanto Raga Comincia il Napoli Centrocampo Normale Normale ancora Nel Napoli Comincia Andare davanti Ma Bel Chievo Che la fermo Beh Intanto Raga Vediamo che succede Raga Dopo si mette alle spalle Degli avversari E dal limite Calcio Meravigliosamente Nel 7 di sinistra Lo sta facendo vedere E Reina Secondo me Non c'è mai potuto Arrivare su questa palla Raga Non c'è mai potuto Non Non poteva mai Arrivare su questa palla Reina Pazienza Però Vabbè Non tifo nemmeno Napoli Io Non tifo nemmeno Il Napoli Stiamo al terzo minuto Raga Vabbè Al terzo minuto Raga Voglio vedere La classifica Comunque Ma Vabbè Napoli Che parte Un po' di sfortuna Non fa niente Raga Vabbè Pazienza Comunque Ragazzi Il Napoli Andiamo sul centro live Tiki Taka del Napoli Intanto Raga Mamma mia Gioco del Napoli Il Napoli Che Imbufalita proprio Raga Stiamo andando davanti Mi dispiace Ragazzi Mi piacerebbe molto Farvi vedere Questa partita Ma Mi dispiace Non la posso Nemmeno far vedere Comunque Il Napoli Ha fatto un Tiki Taka Subito Mamma mia Ancora Niente di che Ha fatto un gol Così il Napoli Ma Vabbè Non vedo niente Niente di che Comunque Raga Comunque Raga Il Napoli Da quando ha giocato Con la Juventus Ha preso Degli schiaffoni Proprio Quegli schiaffoni Raga Il Napoli Raga E Come posso dire Proprio È caduta Il Napoli È proprio caduta Il Napoli Non posso Napoli Non tipo nemmeno Da Roma Nemmeno Lazio Ma è caduta Questa Napoli È caduta Il Napoli Che la vediamo Per il campionatore Ora È il campionato Raga O Vediamo il Napoli Nulla di che Raga Possiamo parlare di altre cose Ma niente Raga Il Napoli Non sta facendo Quattro spettatori Quattro spettatori Comunque Quattro e cinque Dico Quattro Alcuno Se ne vanno Salgono Se ne vanno Raga Ma Attenzione Raga Calcio C'è il pallone in aria Ma vabbè Presa sicura Di disarmi Raga Intanto Raga Ma Rischia pure Rischia pure Il Chievo Vabbè Ha fatto un gol De culo Ma pure Stai rischiando Il Chievo Stai rischiando Il Chievo Ma vabbè Non fa niente Pazienza Intanto Raga Se mi fai vedere La classifica Perché Su classifica Live Sono andato Niente Intanto Attenzione Niente Ancora Raga Non succede niente Adesso Oggi Non va Se volete Raga Scrive Raga Scrivete Nei commenti Raga Scrivete Nei commenti Ciao Io sono io Tu sei tu O quattro Lollo Miranda Te saluto Questo è un bravissimo ragazzo Raga Te saluto Anche Gio27 Bella Gio27 Gio27 Però vabbè Napoli Pazienza Raga Lo so che Ah ecco Attenzione Raga Sto vedendo la tv Napoli ancora Pagarete Ha segnato Iguain Come sempre Raga Iguain Ecco il pipì Vita Raga Ora Io sono io Tu sei tu O quattro Sta proprio Sta proprio Esultante Uno a uno Del Napoli Io lo sapevo Che il Napoli Pareggiava Comunque Lo sapevo Che il Napoli Pareggiava E con quello Del Napoli Comunque Vabbè Che Napoli Ci è ripresa Il Napoli Raga Bella Io sono io Te saluto Ancora Non so Se Sei ancora Ne vedi ancora Io sono io Tu sei tu Comunque Il Napoli Ha parigiato Raga Sto vedendo la partita Comunque Raga Ha seguito pure Su 7 gold Raga Nelle 77 Digitale Del Reste Ok raga Ho salutato tutti Non so chi è Andremine Non so chi è Andremine Che ne so Non lo so Raga Comunque Se vuole Saluto pure Saluto pure Lui Non c'è No problem Comunque Intanto mi giro Per me uno Raga Ancora uno Intanto se volete Vi dico Però mi scuso Un attimo Con Coso Io sono Io Prima Non vedevo I commenti Mi scuso Perché io Sto Ancora Ancora Vediamo come Sta andando Dico ancora Niente di che Niente di che Proprio Nella Partita Comunque Napoli Napoli Ha anche una bella Scuola Quando è venuto Sarri Perché Proprio fa schifo Non siete d'accordo Con me Che Scrivetelo Nei commenti Se volete No problem No problem Tanto Il Napoli Che Scrive Subito Però Comunque Il gol No Scusate Regali No scusate Allora Gol Ha segnato La sto Facendo rivedere Tutto merito Di Gulamp che ha fatto Sto cross Io lo sto Rivedendo Bel cross Come Lottavo Già Ma uno Regà Intanto la Classifica Regà Ve la dico Tutta Ve la dico Tutta la classifica C'è la Juventus Prima Sessuale In Napoli C'è La Roma Con il mitico Mastro Lindo A 56 La Fiorentina Inter 48 Poi c'è il Milan 47 Sassuolo Non Regà Attenzione Regà Mamma mia Il Chievo Ha fatto Un fallaccio Regà Comunque Il Milan Ha 47 punti Sassuolo A 41 Lazio A 37 Lazio Regà Sta facendo Pena quest'anno Pena proprio Il Bologna 35 Il Chievo 35 Che sta pareggiando Lempoli 34 Torino 32 Sampdoria 31 Atalanta 30 Udinese 30 Genova 28 Palermo 27 Frosinone 23 Carpi 21 Verona 18 Ma regà Attenzione Il Napoli Mantiene il possesso Palla Con numerosi Passaggi corti Ecco un errore La palla Viene presa Rimessa Laterale Per il Chievo Rimessa Laterale Per il Chievo Anche il Chievo Sta facendo Una bella partita Anche il Chievo Sta facendo Una bella partita Normale Però io Siamo all'undicesimo 1 a 1 Io Alcune volte Mi giro A vederla Io non lo so Ma il Napoli Il Napoli Fa sorprese Raga Attenzione Scatte E' fuori gioco Del Napoli 10 spettatori Vi saluto tutti Scrivetevi Ah raga Scrivete Sulla chat Che vi saluto Se volete Gioramenti Scrivetevi Io Ve lo dico Consigli Tutto quello Che volete Però se Sì Vabbè Vabbè Fuori gioco Del Napoli Napoli Non vedo Niente Non Nemmeno Partita Napoli Anche Sta mettendo Tutta Comunque L'altra sera La Roma Ha parigiato Ha parigiato La Roma Comunque L'altra L'altra sera Non so Se Venga Eh Però se Mi vedete Bene Alcuni Dub Però Mi piace Ok Raga E Vabbè Intanto Io Mi Tutto Regolare Ancora 1 a 1 Al 2 No Ando Ecco Ecco Scatta il piumo giallo Per Castro Bello Rega Bello De giallo Bello Vabbè Non fa niente Ma anche Sto Mineforte Mi vuoi Dì Chi sei Mineforte Non so Se sei Minelli Bla 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 Boh Ma che Mi piacciono Beige Ma chi sei Chi sei Mineforte Comunque Rega Lo che succede Ancora Normale Rega Non cambia Ma chi sei Sto qua Sto qua Ma chi è Ma chi è Ma chi è Comunque Ma chi è Sto Sto Per cosa Hai nominato Come fai Di Cognome Mineforte Fai Come fai Di cognome Minelli Non lo so Eh Come fai Di cognome Mineforte Comunque Ragazzi Non so Come Non so Chi è Sto 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 Mineforte Ma Vabbè Non so Perché Io Spammo Sul Gruppo Whatsapp Mi sa Che uno Di quelli Che ne So Comunque Non ce l'ho Il telefono Adesso Qua Perché Sto Facendo La live L'ho messa Da un'altra Parte Ma Ma Chi è Sto Qua Io Non lo so Comunque Vediamo Napoli Ancora Uno Uno Attenzione Giorginio Calcio D'angolo Sventa La minaccia Però Sempre Lorenzo Napoli Soprattutto Insigne Pericolosa Da fuori Ma Chi è Mineforte Sei uno Che sta Sul Sei uno Che sta Sul Gruppo Whatsapp Per Caso E tu Se sei Uno Che sta Sul Gruppo Whatsapp Ma Che cos'è Begege Begege Ma Cos'è Allora Dimmi Che cos'è Begege E io Ti do L'ok Ti dico Ok Se questo Che cos'è Begege Però Mettete Mi piace Regà Non togliete Mi piace Comunque Sette Spettatori Vino Grazie Che cos'è Begege Chi sei In le porte Mo Lo vado A vedere Comunque Io In Napoli Attenzione Sempre Normale Regà Sempre Giocano La Sempre Giocano La Regà Sempre Giocano La Aspetta Mo Scrivo A Begege Chi è Sto Non so Se spam Proprio Ma chi è Il sogno Di Michele Vabbè Ti piace È bella Andrini Regà Scri Comunque Mineforte Tu Mi conosci Per caso Perché io Non ti conosco Non so Se tu Mi conosci L'hai vista Così La live Comunque Napoli Sempre Uno a uno David Lopez Attenzione Mamma mia Tiro Di David Lopez Regà Regà Mineforte Scrivimi Se mi conosci Non lo so Ah Non mi conosci L'hai presa Così proprio Ah va bene Non fa niente Va bene Non fa niente Io pensavo Che mi conosci Eri uno No pensavo Che eri uno Qua Che mi conoscevi Hai un canale Non me lo volevi Vabbè Non fa niente Regà Lasciamo Stato Non so Se volete Ditemi Se volete Se vi porto Giù l'Atalanta Scrivete nei commenti Comunque Ma chi è Comunque Michele Del vecchio sogno Di Michele Comunque Andrini Scrivi Michele Michele Mineforte E tutti quelli Che stanno Vedendo Sta live Se volete Scrivete Se volete La Juve Atalanta Oppure L'Inter Palermo Scrivete La partita Che volete Io ve la porto E la porto Non ho problemi Comunque Vedete Guardate la mia live Comunque Quella di Quell'altra live Dello speciale 60 scritti Ormai Stiamo a 70 Guardatela Stiamo calando Comunque In Napoli Attenzione In Napoli Comunque Il tiro di Di Davide Lo sto vedendo Sfila proprio Comunque In Napoli Soffia proprio Largo Oltre il pavo Sinistro Però In Napoli Sta facendo La partita Si aspettano Tutti e due Comunque Regà Ditemi Se volete La Juve Scrivete Scrivete La partita Che volete Intanto Io sto sempre Una faccia Dal computer Un po' Al computer Un po' Proprio Al televisore Comunque Beh Sempre Non cambia niente Comunque Regà Attenzione Fiorginio 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 Mamma mia Un calcio Piazzato Per Napoli Comunque Ditemi Scrivete Nei commenti Se volete Scrivete Nei commenti Se volete Se volete Se vi porto Altre partite Dico La Juve L'Inter Vi porto Tutte quelle Che volete Oppure Le partite Champions League Io Ho Sky Illimitato Regà Premium Tutte e due Regà Su un televisore Ho premium Su uno Sky Scrivete Andate su Quello che Vuole Ditemi Quello che Volete Io ve lo porto Alcune Se posso Faccio alcune Eccezioni Vi porto pure Vi porto pure Le partite Proprio Però Andre Mineher Mineforte Scrivetevi Al mio canale Dopo Ricambio Tanto Adesso Non posso Perché Poi si impalla Tutto il computer Sette spettatori Ma vabbè Scri Scrivete Se le volete Ste cose Ste live Comunque Attenzione Il Napoli Niente Il Napoli Non sa fare Proprio la partita Non la sa fare Proprio la partita Perché Anche Io Difesa Bene Attenzione Goulam Cerca Mamma mia Goulam Attenzione Ha svergolato Il suo tre persone Attenzione Raga Ma Io Così non Mi vedete Perché io A me piace la Juve Quando comincia la Juve Quando comincia la Juve Dove Deve Beh Intanto Rimani Mineforte Rimani Comunque Per stavodd Vabbè Rimani Tanto Noi non parliamo Di calcio Solo quando parla Il Napoli Noi parliamo Di calcio Ma proprio Non dico Che parliamo Solo di calcio Ma Se vogliamo Chiediamo pure Un po' Così Quando Vado Però Comunque Non so se Questo qua Il tuo cognome Comincia con Mine Solo questo Voglio sapere Solo questo Non sai che ho un canale YouTube Perché io Ho un Comunque Mineforte Il tuo cognome Comincia con Mine Voglio sapere Solo questo Comunque Ancora Un a uno Niente di che Attenzione Iguain Iguain Palla fuori Di un niente Stiamo al ventesimo Stiamo al ventesimo Ah no Non fa niente Ok No Ok Perché io È un mio amico Che dico il nome Comincia con Mine Per questo Lo dico Capito Però Se volete Iscrivetevi Al mio canale Vabbè Regà Anche se Non vi piace Il calcio Ditemi Che tipo di live Volete Io ve le porto Capito Ditemi Che live Volete Per esempio Ora Per esempio È la prima live Di calcio Che porto Perché Vabbè Anche io Non è che Vado sempre Su calcio Mi piace il calcio Sono appassionato Ma non è che Mi piace Molto il calcio Ma vabbè Vabbè Però Facciamo Però l'ho portata così Ma ditemi che live Volete Di videogiochi Dai Di videogiochi Di videogiochi Non li so Regà Però ditemi Che live Volete Però Ditemi Quelle live Che volete Io ve le porto Per esempio Non so se posso Portare Sti di live Che Non li posso Perché Il computer Non lo posso portare Dall'altra parte Collego Con l'HDMI L'Xbox Al computer Condivido Lo schermo E giochiamo Gioco Capito Non posso Però Ditemi Altre live Non solo Di videogiochi Dunque Vabbè Ve lo dico Però Vabbè Vabbè Noi siamo qua Intanto Però Quando si gioca In Napoli Comunque Regà Ve lo dico Faccio Un po' Di rizzazioni Scrivetevi Beh Però Se volete Scrivetevi Al canale Di Io sono io Tu sei tu O quattro Scrivetevi Vabbè Scriviti Scriviti Non fa niente Poi mi scrivo Pure io Perché Sto facendo la live Si impalla il computer Sapete Quando Brucano ste cose Si impalla il computer Ma Poi Mi scrivi Poi vabbè Io Mi iscrivo a tutti Dopo Mi vedo Gli iscritti Mi iscrivo Tanto poi Metto pure Like Scrivito Tanto il Napoli Sempre uno a uno Regà Non cambia Regà Non cambia Sto Napoli Attenzione Regà Un poco Un poco Riceva una bella palla Rasote Nell'area di rigore Spara Rasote Era nel centro Della porta Beh E Bevere Farà proprio centrale Però Prima Fallo di Kirkes Prima ho visto Perché non ho potuto Parlare subito Però c'era fallo Di Kirkes Però Non lo so La prossima partita Domani Se ve la porto La Juventus Ma non lo so Comunque vedo Che non mi piacciono Il calcio Ve la posso pure Non portare Non mi importa niente Però regà Commentate Commentate Io vedo Che ci sono Aspettate Ci sono Quanti Cinque spettatori Su cinque Commentano solo due Allora PC O The Sims O The Sims O Counter Strike Non so se conosci Counter Strike O The Sims 3 FIFA Vabbè FIFA Lasciamo sta Però Sti giochi qua Cosa Ora 3 Ah The Sims 3 Sì Ho The Sims 3 Io Però Mi posso pure Mettermi pure il 4 E me lo posso Scaricare Ma Il problema Del 4 Che uno Se solo Me lo posso pure Comprare benissimo Solo Me lo posso prendere Nell'Xbox Solo se uno Solo se uno Lo compra No Sì Se uno lo scarica C'è un file Dentro che non va Della crack Per questo Per questo non Prendita Oppure il virus Non me lo posso Fare Per Xbox Ma se volete Ho Counter Strike Ve lo posso portare Counter Strike Basta che lo Basta che lo metto In In modalità Basta che ve lo metto In modalità Sì CS Sì CS 1.6 Ora Non lo faccio CS Ma ve lo porto Ve lo porto Se mi seguite Ve lo porto 1.6 Ma Regà Non so se mi lagga Non so se mi lagga O ci Non so se mi Mi ne è forte Ma Mi ne è forte Tu hai Minecraft Così Sì lo so che hai Minecraft Ma Io ogni volta che me lo scarico Minecraft Mi da Delle Delle cose strane Quando metto play Mi da delle Scritte strane Oppure Java Ho tutte le versioni di Java Non so se mi puoi dire Perché c'è sta cosa Intanto In Napoli Ancora uno a uno Ragazzi Per tutti quelli che mi seguono Sempre uno a uno Lo sapete perché Vengono queste No Non so Non lo so Regà Non so Se il problema La crack Se no ve lo porto Come tipo Mi vengono delle Quando Mi scarico tutto La cingima Launcher Mi scarico tutto Alla fine Quando mi dice play Si apre Mojang Si apre Mojang Dice Non risponde Si apre quella pagina Quando schiacci play Dalla cingima E mi vengono Tutte scritte strane Tipo già Dice Non lo so Molte cose strane Ma Minecraft Premium L'hai scaricato Minne forte Minecraft Premium L'hai scaricato Non lo so eh Poi Scrivi Intanto Napoli Sempre uno a uno Attenzione Caglie conno Caglie conno Tuffo di Bizarri La para La para Bizarri Comunque regà Sta live È proprio diventata Regà Sta live È diventata Sta live Non è più Una partita Ok Se l'ha scaricato Va bene Ma mi potete dire Che significa Mine Scrivete sempre Mine 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 Che significa Comunque regà Ancora Napoli Vabbè Comunque Non è più Regà Non è più Non mi sembra più Ok Lo vedo Non Ora Perché c'è la live Perché c'è la live Non te lo scrivo più Però C'è Gioli che ci scrive Bella Gioli Bella Gioletto Ah regà Chi vuole vedere Regà Vi scrivo così Visto che Vabbè Non ci importa niente Ora Napoli Attenzione Respingo Una palla Bizarri Regà Vi chiedo Se volete vedere Il mio computer Se volete Non so se Ve ne intendete Di computer Ma Se volete Ve lo faccio vedere Regà Se volete Scrivetelo Lo so Lo so Lo so Lo so Io sono io Tu sei tu A quattro Lo so Te ho pure Scusato Lo so che sei Mi alla Lo so Ti conosco Benissimo Comunque Vabbè Vabbè Io sono io Tu sei tu Vabbè Io sono io Tu sei tu A quattro Un giorno Se vuoi Ci vediamo Fuori Ci Organizziamo Andiamo fuori Insieme Regà Un mio amico Questo qua Io sono io Tu sei tu A quattro Non so se Hai visto L'altra La mia live Io sono io Tu sei tu A quattro Vabbè Però un giorno Ci vediamo Ci vediamo Se possiamo fare Anche un video Proprio instant Così Sì Un giorno Ci vediamo Andiamo fuori Facciamo una bella Passeggiata Facciamo un video Instant Con cellulare Lo mettiamo su tube Non me importa niente Però Comunque regà In Napoli Pericolosa Però Non sopporta molto In Napoli Lascio vedere Lascio vedere Il mio computer Mo Andiamo regà Mamma mia Andiamo fa Condividiamo Lo schermo Schermo intero Sì Schermo intero E regà Guardate il mio computer Guardate lo schermo Guardate lo schermo Guardate che schermo Regà Beh Vi faccio vedere Tutto Ho qua Ho gli semi di PES Sull'Xbox Che non mi c'entra niente Ecco qua The Sims 3 Counter Strike Espansione di The Sims Mi posso mettere pure il 4 Non c'è problema Mi posso mettere pure il 4 Poi un attimo Lo faccio vedere qua Oppure Bluestacks Regà Bluestacks Che me l'ha messo Io sono io 6 O 4 Me l'ha messo lui Ma vabbè Io poi l'ho craccato Perché Era a pagamento Ci sono riuscito a craccarlo Vediamo chi scrive Comunque Puoi mettere la webcam Eh no regà Quella webcam L'altra volta L'altra volta La webcam Si è Non lo so Si è danneggiata un po' Non so perché fa vedere così Però Mi piaceva farla vedere Cos'è Come si chiama Andrea Andrea Minecher Bello sfondo Sì Grazie Per il Bello sfondo Eh se vuoi vedere La webcam Proprio L'altra live C'è la webcam Se vuoi passa Ci metti pure Mi piace Però vabbè Nell'altra c'è pure La webcam Però alla fine Proprio la metto Perché Eh Comunque No aspetta No si può mettere La webcam Nell'altra live Non l'ho messa subito Perché abbiamo Fatto una challenge Super limone Dovevamo Quasi ingogliare Un limone Vado a guardare Ecco vabbè Vi lascio vedere Il mio pc Eh proprietà Intanto Dite se vi piace Lo schermo Mi so proprio Sono venuto fuori Della cosa Del Napoli Del calcio Ecco vabbè Ecco Fa schifo Il mio computer Nella vedete Una volta Era 64b Solo il rating È bello 7,1 7,1 Non so Secondo Secondo voi Alto Ti chiamo Su cosa Ti chiamo Allora Se vuoi Non lo so Se Io sono Io tu sei tu O quattro Non ti posso chiamare Aspettate Allora Se vuoi Sì lo so Lo so Lo so Grazie Se volete Non lo so Coso Io sono io Tu sei tu O quattro Se vuoi Aggiungiti All'hangout Se vuoi Ti aggiungo Ti aggiungo Intanto Interrompo La condivisione Non so Se ti posso aggiungere Aspettate Vado a vedere Sì Ti posso aggiungere Non lo so Mo Indirizzo Io sono io Aspettate Io Sono Io Proprio Aspettate Io sono io Tu Sei Non lo so E mo Mo vado Ti invito Alla live Aspettate No sul telefono Ora non posso Aspettate Mo se vuoi Aspettate Sei Tu Vabbè Comunque Aspettate Vi condivido Il link Regà Copia Vado Non so se manda il link L'ho mandato L'altro Vabbè Aspettate Aspettate Come possiamo Non posso chiamare Con il telefono Di casa Nemmeno col cellulare Ora Però Aspettate Come Come te lo posso Mandare Te lo Aspettate Posso mandare Io sono io Tu sei tu Ho quattro Non lo so Se lo posso Te lo posso Mandare su Whatsapp No Non so se lo posso Mandare su Whatsapp Però ci provo Perché col telefono Ora non posso Ma ci provo Con Bluestacks Visto che ce l'ho Whatsapp Su Bluestacks Non chiamarmi Chiamami al telefono Non lo so No A quello di casa Non puoi Perché poi Si impala tutto Perché ho il telefono Collegato Però Comunque Non lo so Se vuoi Comunque Io intanto Per Te posso Mandare un messaggio Su Whatsapp Intanto che si carica Bluestacks Possiamo parlare Tanto Napoli Sempre 1 a 1 Però Raga Si Mi so Dimenticato Di rispondere a cosa Mineforte Un'altra live Non lo so Forse domani Perché Non lo so Non lo so Nemmeno domani Però Forse Non lo so Quando la porto La live Però Alla A fine A fine settimana Ve la porto La live Intanto si Ti mando Aspetta Ecco Si è Si è fatto Whatsapp Si si è fatto Whatsapp Si è caricato Whatsapp Bluestacks Ma apro Whatsapp Comunque Mamma mia Intanto Poi si Faccio una live Ora non posso Perché ho tutti i programmi aperti Però faccio la live Non lo so Forse Proprio a quest'ora Forse Alle 2 Non lo so Però Ve lo mando Se voi Mi seguite Su discussione Io ve la mando Non so nemmeno chi sei Mineforte Però Ok Cellulare No Prendo il cellulare Raga Aspetta Io vado a prendere il cellulare Voi rimanete qua Raga Io Se vedete Non parlo Perché sto Sto preso Andando a prendere un attimo il cellulare Perché sta Nell'altra camera Ho preso il cellulare Ecco Ho visto che mi hai chiamato Io sono Io Lo tagliamo Lo tagliamo Però raga Però secondo te Raga Faccio un altro Dire una cosa Raga Solo eh Non so se proprio Mi date ragione Allora Noi sul gruppo Di Noi sul gruppo C'è solo un problema Aspetta Emo te sto scrivendo su whatsapp Allora Noi Scrivetesi nei commenti Se questa Se questa Cosa Ehm Secondo voi è giusta Ehm Aspettate raga Intanto io mando un attimo Per Han Han Goat Così Parliamo Insieme Intanto ti ho mandato Il messaggio Io sono youtube Sei tu Non so se ho bella connessione qua Però Non so se ti viene Raga Comunque Quando se tu fai una live Io sto su bluestacks Comunque Ah ecco Mi è venuto Ti ho mandato il messaggio Eh Ti ho mandato il messaggio Però Raga Ditemi se sta cosa Ehm E' giusta Secondo tu Io Ho mandato Un messaggio su whatsapp Ho mandato un messaggio su whatsapp No Sul gruppo whatsapp della scuola Loro mi hanno eliminato Perché io ho parlato del calcio Ma secondo voi sta cosa Scrivetelo nei commenti Ehm Scrivetelo Se secondo voi sta cosa E' giusta E' giusta Secondo voi sta cosa No scrivete nei commenti Scrivete nei commenti Se secondo voi sta cosa è giusta Perché Uno mica ha parlato di una cosa brutta Ok Tu Ti aggiungo Io sono io tu sei tu Raga scrivete se sta cosa è giusta eh Non so se mi seguite ancora Ma scrivete Scrivetelo Poi vabbè Io aggiungo le persone però Non so se Però raga forse Si sta aggiungendo E' giusta No bravo Non è giusta Mai nah Scusa Vabbè però Però raga Sta cosa non è giusta eh Non è giusta sta cosa Non è giusta proprio perché Uno non può parlare No perché uno Non ha mai parlato Secondo voi Non ho né ingiustato Non ho Non ho né insultato Non ho fatto niente raga Uno non ha fatto Niente Te lo dico Io non l'ho fatto Io non ho Invitami Oh Io ti voglio invitare Ma lo sai il problema cos'è? Che io Vado a vedere un attimo Invitami Io Aggiungi nomi No Vabbè io non so Come ti chiami Aspetta Io Io Non lo trovo Ah ecco Come stanno a chiamare Sì lo so Che Risponde Raga sto a parlare Che come non prende Io Ah vabbè Ma ti chiamo io Ora Ti chiama Non mi chiamo Perché ti sto chiamando io Perché io Quanto Tu nome Pronto Pronto Non ti sento Pronto Dimme Eh sto Dimme Dimme Eh Non ti sento C'ho il microfono Eh lo so Perché sto a fare la live Non posso Vabbè Oh vi è Aspetta Non ti invito Non ti chiamare dal cellulare Tanto il numero vale Ok Dimmi dal cellulare Ti dai Ok Raga Intanto Non so se sentite C'è un caos Raga Mo Eh mo Ti chiamo dal cellulare Aspetta Mo ti chiamo dal cellulare Ti chiamo dal Dal cellulare Così non è che Parliamo su whatsapp Ti chiamo proprio dalla Dalla chiamata Normale Ok Ti chiamo dalla chiamata normale Ma Ecco Ti sto a prendere il numero Eh Ti sto a prendere il numero Eh Tre Tre otto z Sì Tre otto z Tre otto z Vabbè Regà Regà Un attimo Di silenzio Eh Sì Ti ho preso Ti ho preso Ti sto a prendere il numero Mette Nuovo contatto Chiama Ti sto a chiamare Ti sto a chiamare Pronto Dimmi Ti presenti ora bene Ok Io Ti sto a invitando Ma io non ti trovo proprio su google plus Eh 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 Lo so Eh Eh Sì Il problema è questo Il problema è questo Aspè Aspè Se tu vai nella mia pagina di google plus Non so se se può Aspè Lo condi No Non lo posso nemmeno condividere su google plus Perché poi Vengono tutti Capito Io Provo a mettere il link Aspè Non lo posso nemmeno mettere il link qua Io ti ho mandato quel link Se tu clicchi su quel link Se tu clicchi su quel link E viene E E Il problema è questo Perché Devi scaricare il hangout Se no non puoi fallare Ho capito E non lo so Riga Aspè un attimo Riga Non fateci là Non sto parlando un attimo al telefono Vabbè Lo so Ma Vabbè Non lo so Ma Nella foto che hai su whatsapp Stai sul Stai a scuola Ah ok Vabbè Io non lo so come fare Però te Se vuoi Se Segui la live Non lo so Perché Che No Non c'è male su quello di casa Perché poi Con la wifi non va Si Si va via la reddita Vedete Che No Va via la reddita Capito Tanto non cambia niente questo Tanto Però se tu sei Io ci provo Tanto abbiamo ancora Mezz'ora Un'ora di live Tanto Io faccio tutto quello che posso Forse Lo posso pure fare Capito C'è Faccio tutto quello che posso Capito Ciao Ciao Regà Un attimo che stavo parlando Con il mio amico Regà Un attimo Scusate ma Però No Mo ci provo Il me Mai Sul Suo canale Regà Mo ci vedo Sto cosa dei minecraft Perché io ve la faccio Ma chi è la Bella Lifebomber 97 Bella Bella Lifebomber Però Io regà Non lo so Perché io Non so dove mettere Il link Perché Voi dovete avere Hangout Per fare sta cosa Capito Voi dovete avere Hangout Io ho il link Mo lo condivido Ma non lo so Mo lo sto condividendo Vediamo Se andate sulla mia pagina Di Google Plus Forse prende Che ne so Sper Mo vado a vedere Un attimo Io Aspettate Io Sono Io Comunque Regà Dite Se vi piace Sta live Intanto io Sto facendo Tutto Per portarla Per Dimmi Pronto Pissa Se volete Entra Nella Live Tu O quattro Regà Non prendere Non prendere Proprio Io 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 Sono io Tu Io sono io E tu Io sono io E Dimmi Pronto Pizza Dimmi E Sei Tu Dunque regà Non vedo Non vedo nessuno Regà Perché io Non lo so Non lo so Non lo so Non lo so Regà Però A Pronto Pissa Scrivi Pronto Pissa Scrivetevi Pura Suo Canale Faccio Sponsorizzazione Regà Faccio Sponsorizzazione Scrivetevi al canale Di Pronto Pissa Io sono io Tu Sei tu Andre Vabbè Andre Mai Non lo so E Mineforte Però Scrivetevi al loro canale Scrivete Faccio un po' Puri di sponsorizzazioni Scrivetevi Ma regà Intanto Vabbè E Napoli sta vincendo Regà E Napoli sta vincendo Due E un assegnato Kirch A che Mi avevo assegnato Regà Noi siamo Io Avevo proprio Messo a zero Il volume del televisore Non lo vedo proprio Però regà Lasciamo sta E Napoli due Un intervallo Vabbè Questa live Non lo so Finirà 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 Tra Un'ora Finirà Non lo so Sia alle 22 Qualcosa Finirà sta live Comunque Aspettate Non so se Mi sentite Tre spettatori Regà Scrivete nei commenti Scrivete Così vi rispondo Scrivete Però Aspettate Regà Mo Io Aspetta Io sono Io Tu sei Tu Mi stai seguendo Ora Mo Non lo so Posso andare Sul tuo canale Pronto Io sono Io Tu sei Tu Pronto Ah Eccolo Regà Eccolo Io sono Io Tu sei Tu Ah Eccolo Regà Guardate Regà Bella 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 Finalmente Ci siamo Riusciti Regà No Dai Non so se posso mettere La telecamera In un modo la metto No Non mi prende La telecamera Nella Dimme Dimme Metti sta telecamera Vanno Stai zitto Non posso Perché io Nell'altra live L'ho messa Su questa Non so che è successo Con questa telecamera Ma ci provo Aspettate Mo La metto Se ci riesco Mi senti Sì sì Te sento Te sento Aspettate Regà Andrini Nelol Sì ma quindi Le persone Mi sentono Sì te sentono Ti stanno a vedere Sì Sì eh Comunque Io Metto la telecamera Regà La telecamera Ah eccome Sualissimo Malissimo Comunque Può vedere Non so Non so se Vedete che Si è aggiunto Cosa Si è Aggiunto Sì 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 Scrivetemi Al solito E like Comunque Io sto messo Malissimo Regà Con i capelli Perfetto Dimme No No io sto Messo Telecamera Perfetto Perfetto Non ho messo La telecamera Perché Proprio così Sto Però Non Secondo te Eh Sì Ah no Non so se Secondo te Io sono Io Non so se Secondo te È giusto Cacciarti da un Gruppo Whatsapp Solo perché La Roma Sta vincendo Quattina Sì Ah Oh Oh Se n'è andato Se n'è andato Quattro Vabbè Se n'è andato Però Si lo so Lag Appunto Non lo lag Non se n'è andato Ma lag si Divinisce Regà Sto solo io Lui è solo Venuto Non so Per salutare Ma vabbè Però Forse dopo Lì torna Adesso Scrivetemi Se n'è Visto che lui S'è andato Lag di meno Perché Non so Più In ogni live Quando lagga Sempre Quando ci stanno Molte persone Lagga Scrivete Se ora lagga Quando Ora Che lui S'è andato Ma Io sono io E tu sei Tu o quattro Scrivi nei commenti Comunque Non so Se ci sta ancora Vedendo Gioventisette Anche Gioventisette È un nostro Fan Sponsorizzo Scrivete Scrivetevi Intanto Ragga Se volete Io Non so Come mettere Non Lo so Come si mette Ma Adesso Aprire Counter Strike Metterlo in modalità Finestra Proprio Si chiude La live Ragga Si chiude Live Ah ah Bella 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 Però Rega In Napoli Sì Sì Rega Noi Ditemi Se continuo Ancora A fare La live Però Scrivete Che Scrivete Qua Nei commenti Ora Se 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 Come Se Con Poi Tante persone Non Scritto Continua Non Continuo Però Vabbè Poi Mette Ora Mol Lagga Pochissimo Live Continuo Cinque Spettatori Va Bene Rega Però Vedete L'altra Live Vi 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 Volevo Sarega Vi Volevo Di pure Un'altra Cosa Mi Hanno Hackerato Il Canale Non So Se Lo Sapevate Se Mi Seguivate Ancora Due Tre Giorni Va Vedrà Proprio Un Altro Modo Se Mi Seguivate Dal Primo Giorno Che Ho Aperto Il Canale Con Questa Foto Non Funziona Quando Scarico Se Mi Funziona Lo Faccio Non So Come Vi Posso Bandare Le Live E Voglite Farvi L'annuncio Di Una Live Non So Che Dopo Non So Come Faccio Ditemi Come Posso Fare Un Annuncio Live Non Lo So Perché Anche Se Faccio Un Annuncio Live Sul Il Canale Non So Se Voi Lo Vedete O Viene Nei Video Consigliati Però Scrivetevi Scrivetevi Se Scriviati Però Io Non So Non So Ditemi Voi Spettatori Scrivetevi Bella 8 Spettatori Su Raga Salutate Sì Tanto Ci giochiamo Ciao Eccomi Raga Salutate Il mio Amico Qua Iscrivetevi Al suo Canale Però Quale Canale Che Non Gio Vivo Chi è No È Un mio Amico Mi senti Sì Sì L'ho Visto L'ha Capito Che Ci sei No Chi è Che Ho No Questo È Un mio Amico Che Ti è Giunto La Live Ti ha Salutato Ti ha Salutato Salutalo Se vuoi Eh Eh Ci hanno Saluto Ci hanno Salutato Mandò Vai Vieni Come Guarda Stai Raggando Un Botto Zio Lo so Lo so Ma in porte Che che jolly E' un fan anche prima allora se io voglio condividere tutto quello che vedo sul telefono se può fa tipo Dovevo condividere sui No, no tutto quello che vedo sul telefono tipo tipo faccio vedere a tutti quello che vedo sul telefono se può fa Sì Non lo so come come ho fatto Ho fatto condivisione schermi sul mio computer dice Non lo so diventa dove stanno le fai non lo so diventa c'è una barra mo te lo faccio vedere mo faccio condivisione schermi Ora Aspè Ecco se lo vedi La seconda quella verde con una freccia Ma io guarda e non so sul computer Non so sul computer E lo so però Non lo so se c'è Non lo so se c'è Non lo so E E Vediamo anche andrea maine Vediamo anche gli altri Non lo so Non lo so ma Li devo Li devo Comando Eh Mo li ma ok Mo Andrea E In Se Comando Ti metti sulla live Cosa? No Voleva così Ma Ma lo Non so Lagga un botto In uno lo lagga Però quando si stanno In due Si lagga Eh Però ci vediamo ok Si si Aspetta ma la tua classe non va al campo scuola No non va Già sfiga Si perchè Facciamo troppo Troppo ci sono alcuni C'è un Vado martedì Cosa non ho capito Io parto martedì E' vero Ma mia Che Che fortuna Perché Lo sai Noi Perché c'è Coso Perché c'è Minelli Che Che fa proprio casino Fa tutto quello Proprio Alcune volte Ma Capito Minecraft A me guarda A me guarda Non lo so perchè non funziona perchè io Quella originale Con la premia Che prima mi prendeva benissimo Se vedevi venivi Su Ma Non lo so perchè non no Ma perché non metti Counter Strike Non puoi A schermo intero ma schermo intero poi schermo intero si chiude la live però se io faccio schermo intero quando entro e metto a chi è un po non posso non si è l'accesso che è sb no se lei c'è uno dico la google counter strike 1.6 quella go io ce l'avevo laggava un botto andava proprio andava un fps a seconda capito andava così male anche nikita ce l'aveva un fps a seconda devi avere proprio un computer non so come si chiama andre mai in dato su discussione domandato in che domandato capito non so in me sì sì ok lo provo però otto ma lo provo con il metodo di main forte no ora no perché sto facendo la live ma ti ho mandato il link se stai a guardare comunque prima erano 10 da 10 però non ci provo con questo metodo va bene ah scrivete nei commenti se volete altri live mettete mi piace scrivetevi io prima avevo 60 io prima avevo 62 iscritti dopo la su per la live su l'altra live la prima live mi piace scrivetevi io non posso stare molto qua perchè ora devo andare a fare una cosa ciao 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 si vabbè mai forte si e poi comunque ecco ragazzi ora deve laggare di meno ora dimmi ma in forte se l'agga non so quando volete altre live ma vabbè comunque cosa andre mai non ti metti più alla live io sono io tu se io volevo non stare in tre vabbè lasciata comunque ormai vabbè nella prossima live vabbè mettite se vuoi però ora no vabbè scrivete se scrivete nei commenti se vi piacciono i miei video quelli dei pianoforte quelli di là vabbè regà ok ah non fa niente regà scrive comunque alle 10 non so se a voi va bene e finiamo la live non lo so scrivete se vi va bene alle 10 comunque scrivete se vi va bene alle 10 e finiamo la live però vabbè tanto aspetto che così finiamo subito perchè mi scarico minecraft a metodo proprio minefort va bene va bene va bene va bene non fa niente il napoli questo è il napoli regà il napole comunque non fa niente tanto il napoli ok ok va bene va bene va bene intanto ora laggevi meno però però va bene va bene va bene va bene comunque facciamo chi conosce messi e cristiano ronaldo scrivete nei commenti se li conoscete anche se non vi piace il calcio scrivete se li conoscete Però Pronto Pissa Non so se mi sta seguendo Pronto Pissa Però scrive Ronaldo O vabbè questi Ronaldo Messi Scrivete se conoscete No scrivete se secondo voi è meglio Ronaldo Messi E scrivete se è meglio Ronaldo Messi Vediamo chi è più forte secondo voi Secondo me è più forte Messi E scrivete se è più forte Messi o Ronaldo Scrivete qual è più forte Però Poi vabbè vabbè Ora con la Si è meglio Messi Guarda Alcune cose è meglio Messi Alcune cose è meglio Ronaldo Non dico ora Non facciamo la lite Ma chi è Ma chi è Ma chi è Comunque Sì è meglio Allora è meglio Messi Alcune Alcune cose è meglio Messi Alcune cose è meglio Messi Alcune cose è meglio Io Non voglio dire Quale è più forte Ma vabbè È meglio Facendo tutti i calcoli Quello che ha vinto più palloni d'oro è Messi Ma anche Ronaldo Ma anche Ronaldo ha fatto molti gol Non si sa chi è più forte Non posso nemmeno dire Ma direi alcune Perché Messi la passa Capito? Sta cosa c'è che Messi non la passa Ronaldo la passa Capito? E Poi Ronaldo è alto Messi proprio basso Regà Non mi si vedono più I commenti Regà Si sta a caricare un botto No Con il metodo Con il metodo Mine Mine Trovo A scaricare Minecraft E se non lagga Vi porto un video Però Regà Ancora Nei commenti Se Se io faccio Per esempio Un video Video No Fare Non lo so Se la voglio Appare sta cosa Non lo so Però Regà Non mi senti Io Io Prima di chiudere Stato 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 Dai Non mi si caricano Più i commenti Regà Regà Per Perché Non vedo i commenti Regà Non mi senti Non mi senti Non mi senti Daio Regà Non mi senti Nei commenti Regà Sì Raga Ricordatevi Che se tu non mi piace D'altro Vittra Live Grazie per quelli Mi piace Regà Non mi fa proprio vedere fare 20 grazie vabbè ora scusa ecco rega sono 57 se chiudiamo la live un po' in ritardo perchè io sto attento ecco ecco i nomi si vedono ma no sta laggando un po' però non fa niente io aspetto che si carica aspetto io aspetto 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 e dai oh e dai 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 boh non lo so non lo so non lo so non lo so se non vuoi che ti racconti scappa scappa ah è un programma per catturare però si ora però action è la stessa cosa è di cosa come si chiama è di bandicam di però me lo scarico scarico me lo intanto ho vita io le cose anche ps raga tutti i giochi se possono tracca tranne alcuni giochi nuovi che sono arrivati tipo no gta si può dei sims si può ma dei sims 4 si può raga ma no a è un programma per muo vedo muo vedo però stavo dicendo raga non mi va proprio no si me la faccio la crack la so fare io per esempio dei sims 4 io l'ho non va perché non va non va non va non lo so c'è un file dentro che non va l'ho fatto proprio apposta raga scrivete comunque se io per esempio faccio un video a voi appare non lo so scrivete così alla prossima live faccio un annuncio ditemi se a voi appare il video sul mio canale aspetto che sono le 22 raga però aspetto che voi rispondete se io carico un video a voi appare non lo so si appare ok allora se fa allora se io faccio no se io faccio se io faccio un annuncio voi voi allora se lo vedete voi sapete che la sera c'è la live io faccio l'annuncio di qualche ora inizia così non lo so se voi io se ti mando un messaggio su discussione a te se appare ti mando il link su discussione quando c'è una live e tu guarda capito su discussione ti mando il messaggio su un video che lo commento e scrivo questa sera live lo faccio così lo faccio così raga mo chiudo io comunque raga mo chiudo tra poco chiudo un po' chiudo e ma il forte che scrive mo tra po' mo mi è piaciuto sta live mo quando commentate commentate raga sotto ricommentate il video no 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 credo sotto il video perchè mo qua non si vede però scrivete che è stato bello perchè poi questi commenti non si vedono più scrivete che è stato bello vi è piaciuto aspetta chiudiamo la live no scrivilo quando è finita sta live ma il forte quando è finita sta live ehm sotto nei commenti scrivi che ti è piaciuta è stata bella rifai sta live capito? mi vengono zero commenti le persone non quando ora finisce sta live raga tutto ve saluto al prossimo al prossimo mo faccio finisce sto video mo faccio gli annunci però bella raga grazie grazie vi saluto alla prossima chi è? aspetta raga chi è? qualcuno mai in ritardo in ritardo? perché la live è finita? la live è finita? è in ritardo perché la live è finita la live è finita vi saluto al prossimo al prossimo ciao